Un botte risposta a distanza tra i Vescovi della CEI e il Presidente del Veneto, Zaya, al centro ancora una volta all'autonomia. Nei giorni scorsi il Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Francesco Savino, aveva parlato di un rischio far west tra le regioni povere con la riforma che, secondo Savino, creerà tante Italie quanto le regioni. Il Vescovo di Cassano all'Oionio poi aveva affermato che il Sud ha capito che l'autonomia è un cavallo di Troia per creare due Italia, una prospera e l'altra abbandonata a se stessa. A stretto giro era arrivata la replica del Governatore del Veneto, Luca Zaya. Sono sorpreso e rammaricato dalla posizione espressa dal Vice Presidente della CEI. Le dichiarazioni riportate appaiono basate su una lettura fuorviante e fortemente di parte. Sono convinto, aveva proseguito Zaya, che leggendo attentamente i documenti e valutando il merito della riforma le opinioni sarebbero molto diverse. Il Nord e il Sud sono gemelli siamesi, se affonda il Sud affonda anche il Nord. Mi sono sembrate davvero sconcertanti le parole, la reazione nervosa e scomposta da parte di Zaya nei confronti di legittime critiche che non vengono da un soggetto qualsiasi ma che vengono dalla CEI. Critiche che sono del mondo cattolico ma che sono anche del mondo dell'impresa. Basti pensare a cosa hanno detto gli industriali rispetto all'autonomia con il rischio che penalizzi non solo il Sud ma anche il Nord del Paese. Ecco, vedo che c'è un certo nervosismo su questo. Punta al dialogo e al confronto il Presidente Anci Veneto e il Sindaco di Treviso. Dobbiamo tutti noi capire meglio come funziona e quali sono le opportunità che l'autonomia offre, sottolinea Mario Conte e dobbiamo spiegare che la riforma non significa mettere Nord contro Sud. Io mi sento di rasserenare i vescovi nel dire che anche con l'autonomia la solidarietà amministrativa non verrà mai meno. Le regioni che sapranno meglio amministrare i fondi dei propri cittadini poi saranno comunque sempre a disposizione per quelle parti del Paese che avranno delle necessità differenti. Però è altrettanto vero che oggi il centralismo ha fallito e l'alternativa al centralismo si chiama autonomia.